Il primo comandamento esige l'adorazione esclusiva dell'unico vero Dio. Risultano in contrasto l'ateismo, l'indifferenza religiosa, l'idolatria, il satanismo, la superstizione. Quest'ultima prende forme diverse, consultazione degli oroscopi, chiromazia, interpretazione dei pesaggi. La superstizione a volte è un disordine grave e a volte è leggero, ma sempre contraria alla fede e alla sana ragione. La preghiera e le risorse naturali della scienza e della tecnica sono la via onesta per realizzare i nostri desideri. L'uomo Dio Padre misericordioso preferisce idoli di oro e di argento e nella difficoltà ricorre alla superstizione e alla magia. I cristiani non sono esenti e gli stessi figli spirituali di Padre Pio ne sono vittime, nonostante che i fratti Cappuccini di San Giovanni Rotondo e la Cassa Sollieva della Sofferenza hanno sempre cercato di creare un retto cammino della fede dei cristiani. Il vero amore non ammette concorrenti, Dio ama e vuole amore fedele ed esclusivo, rifiuta Dio gli altri idoli e l'inizio di ogni perversione. L'uomo senza Dio diventa un uomo senza costumi, senza podore, senza coscienza. Come possiamo manifestare un amore sincero e fedele al nostro Dio? Uno degli idoli principali della storia dell'uomo è stato sempre il denaro. Qual è il tuo pensiero circa la corsa sfrenata nel possedere a tutti i costi con furti, frodi, bustarelle, ingiustizie sociali? Cercare a tutti i costi, soldi, soldi? Il decalogo fatto di fedeltà e di amore contio, libera da ogni scavitù ed assicura la verità, la giustizia, la santità. L'esercizio della superstizione, dell'idolatria, della stregoneria, oltre ad essere un atto di irriconoscenza verso l'amore di Dio è anche una degradazione della dignità dell'uomo. Dio si presenta all'uomo come il Dio liberatore. Io ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di scavitù. È un atto di amore a cui l'uomo deve imporre altrettanto un amore filiale. Non avrai altro Dio fuori di me. Io e tu per sempre. Non vi può essere un'altra persona, un altro ideale. Ho infinita misericordia che rimane fedele, nonostante l'inferietà della creatura. Al Dio vero, potente, creatore, padre, l'uomo preferisce gli dei stranieri che sono argento e oro, opere delle mani dell'uomo. Per un posto onorifico nella società, per la bramosia del denaro, per godere il piacere delle passioni, egli dimentica la legge del Signore, perdendo la dignità di figli di Dio. L'Apostolo Paolo avverte che se vogliamo avere in eredità il regno di Dio, non dobbiamo compiere le opere della carne, fornicazioni, impurità, libertinaggio, stregoneria. Al contrario, al nostro cuore deve abitare il frutto dello spirito che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza. Francesco d'Assise diceva Tu sei giustizia, tu sei temperanza, tu sei nostra ricchezza, tu sei bellezza, tu sei mitezza, tu sei il protettore, tu sei il custode, il difensore nostro, tu sei fortezza, tu sei rifugio.